Ma solo un marziano, ma solo uno che arriva da Parigi o da Marte in un paese con le scuole chiuse, con gli asili chiusi, con le università chiuse, con le fabbriche in difficoltà e con gli italiani che hanno problemi di salute fisica e salute mentale, si occupa di regalare cittadinanza agli immigrati. Se è stata una caduta di stile lo dica, noi siamo al governo per fare cose serie, lo Ius Soli non è una cosa seria, anche perché ricordo al distratto parigino Letta che l'Italia è il paese che in Europa concede più cittadinanze con la legge attualmente vigente, quindi se parla di Ius Soli vuole dire che vuole far cadere questo governo, non ci sono altre spiegazioni. Noi siamo a sostegno convinto di Draghi e pensiamo che Draghi sia un'opportunità per l'Italia e per gli italiani. Ma non penso che Draghi abbia neanche la benchenima intenzione di parlare di Ius Soli o di cittadinanza agli immigrati, l'unico tema su cui lavorare seriamente è ridurre gli sbarchi.